I rischi di una infezione da epatite sono molteplici. L'epatite virale è un'infezione cronica del fegato. Senza trattamento può sviluppare una fibrosi. La fibrosi è una delle cause più frequenti di carcinoma del fegato. Si ritiene che in Svizzera il numero di persone colpite da epatite B o C sia 80.000. Una persona su due non sa di avere contratto l'infezione. Sono colpite in particolare le persone nate tra il 1950 e il 1985. È importante diagnosticare e trattare l'epatite virale nel suo stadio precoce. Solo in questo modo si possono evitare le complicazioni a lungo termine. Quindi se sei un rischio, devi provare a testare. È davvero importante. Grazie. Grazie. Grazie.